Valentina Rodini ha scritto la storia del canottaggio italiano con l'oro olimpico a Tokyo 2020, la sua seconda olimpiade all'età di 25 anni, perché prima italiana con la compagna Federica Cesarini a vincere nel doppio pesi leggeri donne. Mentre a Rio siamo arrivate tredicesime, perché un po' di inesperienza, a Tokyo cambiando compagna anche, siamo riusciti a vincere. Abbiamo ritentato la qualifica quest'anno e l'anno scorso per arrivare a Parigi, ma a causa di un po' di problemi fisici in questi tre anni che ci hanno tenuto lontane, l'assieme è fondamentale invece nel canottaggio e poi anche la bravura delle altre nazioni, perché bisogna mettere anche quello, non siamo riusciti a qualificare per Parigi. Proprio durante i raduni per preparare le gare è nato il libro, un racconto con finale aperto per eventuale seguito che uscirà il prossimo 27 di agosto. Quello che facciamo è essenzialmente allenarci, mangiare e dormire, perché quello è il tempo. E in realtà nei pochi spazi che mi rimanevano io scrivevo. E la cosa è nata perché una mia compagnia di squadra un giorno mi fa una battuta dicendo sì il problema non è crescere, non è diventare grandi, è rimanere se stessi. E quell'idea lì comunque a me ha fatto riflettere, perché è vero, cioè che cosa ci fa rimanere noi stessi? Avere dei principi di vita da seguire. E da questa piccola idea è nato un po' il mio libro che non vuole essere uno strumento di insegnamento per altri, è quello che io ho un po' imparato nella mia vita, che può andare bene o non andare bene per gli altri, però è qualcosa che mi ha appassionato e che mi è piaciuto scrivere, spero che piaccia. Ecco, è la prima mia avventura in un mondo fuori dal canotaggio. Le piacerebbe coinvolgere di più i giovani. Imparare giocando assieme è sulla base della storia del libro, quindi non fermarsi solo alla lettura in quanto tale, ma cercare di trasmettere i valori che ho racchiuso lì dentro. Ora fa il tifo a Parigi per gli azzurri grazie a un invito speciale del presidente del CONI Malagò.